Cari amici, in questi giorni scorrono in Italia sul web due video che fanno riflettere. Il primo riproduce le parole pronunciate durante la messa di mezzanotte a Natale da Don Fredo Olivero, un sacerdote che è il rettore della chiesa di San Rocco a Torino e il sacerdote dice sapete perché non dico il credo? Perché non ci credo. Tra le risate dei fedeli si può ascoltare il sacerdote che così continua se qualcuno lo capisce ma io dopo tanti anni ho capito che era una cosa che non capivo e che non potevo accettare. Cantiamo qualche altra cosa che dica le cose essenziali della fede e il sacerdote quindi ha sostituito il credo con il canto gospel dolce sentire del film Fratello Sole, Sorella Luna. Ora il credo riassume gli articoli fondamentali della fede cattolica. Negare uno solo di questi articoli costituisce un'eresia ma negare in blocco il credo costituisce un atto di apostasia pubblica e negarlo nel momento sacro della messa costituisce uno scandalo intollerabile. La rimozione, la sospensione di Vinis, la scomunica del sacerdote avrebbe dovuto essere immediata ma niente di tutto questo è accaduto. Mentre i media rimbalzavano la incredibile notizia l'unica voce ecclesiastica a levarsi è venuta dall'altro capo d'Italia. Si tratta del sacerdote Don Salvatore Priola, parroco e rettore del santuario mariano di Altavilla Milicia in Sicilia, il quale ha espresso in una omelia dei toni appassionati che si può ascoltare su Radio Roma Libera la sua indignazione contro le parole del prete piemontese esortando i suoi fedeli e ogni battezzato a reagire pubblicamente di fronte a scandali di questo tipo. Un video appunto riporta le sue le sue parole. Fratelli e sorelle ha detto Don Salvo quando sentite un prete dire certe cose che sono contrarie alla fede cattolica dovete avere il coraggio di alzarvi e dirlo al prete anche durante la messa. Questo non l'è consentito. È tempo di mettersi in piedi quando sentite dire cose che sono contrarie al nostro credo anche se le dice un vescovo, anche se le dice un prete. Mettetevi in piedi e ditelo. Padre, eccellenza, non l'è consentito perché c'è un Vangelo, perché siamo tutti sotto il Vangelo. Dal Papa a scendere siamo tutti sotto il Vangelo. Fin qui le sue parole e le due opposte omelie, quelle di Don Priola e quelle di Don Olivero, impongono alcune considerazioni. Se un sacerdote giunge a rinnegare il credo cattolico dall'altare senza incorrere nelle sanzioni dell'autorità ecclesiastica, ci troviamo realmente di fronte a una situazione di crisi senza precedenti nella Chiesa. E questo tanto più che il caso di Don Fredo Olivero non è isolato. Oggi migliaia di sacerdoti nel mondo la pensano allo stesso modo e si comportano di conseguenza. Ciò che invece appare un caso fuori del comune e che perciò merita tutto l'apprezzamento dei veri cattolici è l'invito del parroco siciliano Don Salvatore a levarsi in piedi in Chiesa per ammonire pubblicamente un sacerdote e perfino un vescovo che dia scandalo. Questa pubblica correzione non solo è lecita ma può essere talvolta un dovere. È un punto che va sottolineato. La vera causa della crisi attuale non sta tanto nell'arroganza di chi ha perso la fede ma sta nella debolezza di chi pur conservando la fede preferisce tacere piuttosto che difenderla pubblicamente. Ecco questo minimalismo costituisce a mio parere la malattia spirituale e morale dei cattolici contemporanei. Per molti di loro l'opposizione agli errori non andrebbe fatta perché è sufficiente comportarsi bene oppure la resistenza se ci deve essere dovrebbe essere ridotta alla difesa dei cosiddetti assoluti morali negativi cioè a quelle norme che proibiscono sempre e in ogni caso determinati comportamenti contrari alla legge naturale divina. Ora questo è sacrosanto ma non dobbiamo dimenticare che non esistono solo precetti negativi che ci dicono quello che non si deve fare ma esistono anche precetti positivi che ci dicono quello che dobbiamo fare quali sono cioè le opere gli atteggiamenti che piacciono a Dio e con cui possiamo amare il prossimo. Mentre i precetti negativi non uccidere non rubare non commettere atti impuri sono formulati in termini specifici concreti perché vietano una determinata orientazione sempre e in ogni luogo dunque senza nessuna eccezione i precetti positivi quali possono essere la preghiera il sacrificio l'amore alla croce sono indeterminati perché non possono stabilire ciò che si deve fare sempre in ogni circostanza però sono anch'essi obbligatori perché a seconda delle obbligazioni ci impongono un dovere e questo perché la prima verità morale è l'amore l'amore di Dio e l'amore del prossimo l'uomo deve amare Dio al di sopra di tutte le creature e amare le creature secondo l'ordine stabilito da Dio e vi sono atti negativi che non si possono compiere mai in nessuna circostanza ma atti positivi che in determinate circostanze è obbligatorio compiere. Si tratta di un dovere morale che ha il suo fondamento non nella legge naturale ma direttamente nell'amore di Dio. Il Papa Giovanni Paolo II lo spiega molto bene nel numero 52 della enciclica Veritatis Splendor a cui rimando. Ebbene oggi alla teoria del male minore dobbiamo contrapporre quella del bene migliore. Sul piano dell'azione il bene non si può determinare a priori perché sono tante, incerte e indeterminate le buone azioni che possiamo compiere ma se e quando il bene migliore si presenta alla nostra coscienza come chiaro, come ben definito e tale da poter essere compiuto ic et nunc in questo momento, ebbene in questo caso la negligenza è colpevole. Abbiamo l'obbligo morale di compiere questo atto e il precetto della correzione fraterna rientra tra i precetti morali positivi. Non si è sempre tenuti a farla e non lo si può esigere come uno a dovere dagli altri ma ognuno di noi deve sentirsi impegnato a reagire di fronte a negazioni pubbliche della verità cattolica. Chi ama veramente Dio deve seguire l'esempio di Eusebio, un laico poi successivamente vescovo che nell'anno 423 si levò pubblicamente contro l'eretico Nestorio che negava in chiesa la maternità divina. E l'esortazione di Don Salvo Priola a levarsi in piedi quando sentiamo dire cose contrarie alla fede cattolica è l'invito a manifestare il nostro massimalismo nell'amore a Dio e a non porre la fiaccola della nostra fede sotto il moggio ma a metterla sul lucerniere illuminando con il nostro esempio l'oscurità dei tempi attuali.